In questa video guida parliamo di zaini termici. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Gli zaini termici sono la soluzione ideale per trasportare ad una temperatura costante vari tipi di oggetti e alimenti. Gli zaini termici si dividono in due grandi categorie, quelli per alimenti e quelli per oggetti. Gli zaini termici per oggetti, generalmente, servono per trasportare oggetti che, se venissero esposti alla temperatura esterna, potrebbero danneggiarsi. Un esempio sono le batterie dei dispositivi elettronici. Esse, quando vengono esposte a temperature troppo basse, smettono di funzionare. Gli zaini termici per alimenti, invece, sono pensati per trasportare cibi. Essi sono utili per chi vuole organizzare una scampagnata fuori porta o per chi ha un'attività che consegna cibo a domicilio.